Con questo video concludiamo il ciclo di lezioni introduttive alla stampa di elaborati architettonici tramite il software Rhinoceros. In particolare vedremo come definire i principali parametri grafici di colore, spessore e tipologia di linee, utili per ben articolare la comunicazione grafica degli elaborati prodotti. Durante la spiegazione verrà inoltre mostrato come l'elaborazione di questi parametri possa dare risultati diversi se applicati a modelli 3D piuttosto che a tracciati 2D. Per realizzare la rappresentazione bidimensionale qui presentata è stato utilizzato il comando Make2D, la cui funzione è appunto quella di estrarre proiezioni bidimensionali in forma di tracciati grafici dal modello 3D preventivamente visualizzato da qualsivoglia direzione e per punto di vista. La colonna di destra mostra perciò un disegno tecnico piuttosto astratto, composto unicamente da linee e curve. Vediamo ora come modificare il colore degli elementi rappresentati nella scena. Qualsiasi modifica grafica può essere generalmente applicata in due modi, per livello o layer o per oggetto. Una modifica grafica apportata per livello verrà applicata a tutti gli oggetti di una scena che appartengono a quello specifico livello. Aprendo il pannello dei layer possiamo vedere infatti che oltre al nome dello specifico layer ciascuna riga contiene ulteriori dati distribuiti su altrettante colonne. Ogni colonna determina un diverso parametro grafico che possiamo modificare. Scegliamo ora il quadrato nero corrispondente a un layer o a un gruppo di layer. Dalla nuova finestra potremo selezionare, attraverso varie modalità, un colore specifico. Premiamo OK per applicare la scelta. Vedremo che alcuni elementi della parte di destra verranno ora mostrati con il colore da noi scelto. Ciò non vale però per la colonna sinistra, in quanto essa mostra dei modelli 3D rappresentati mediante lo stile di visualizzazione rendered. Il colore di un layer determina l'aspetto di tutti gli elementi di quel layer in ogni modalità di visualizzazione che non sia quella rendered. Per modificare quest'ultimo infatti non dovrà essere modificato il colore, ma il materiale. Il rendering è infatti una modalità di visualizzazione finalizzata alla resa realistica del modello. Accediamo quindi alla colonna Materiale nelle proprietà dei layer e clicchiamo sul layer desiderato per modificare il materiale. Nella nuova finestra possiamo ora accedere a molteplici parametri grafici. Apriamo in questo caso il colore e scegliamone uno nuovo. Premendo OK potremo vedere modificato il colore delle superfici 3D del progetto appartenenti al layer anche nella vista Render o, come si usa dire, renderizzata. In alcuni casi, però, potrebbe essere necessario modificare l'aspetto di un solo elemento. In questi casi allora è possibile selezionarlo e accedere al pannello delle proprietà di quel singolo oggetto. All'interno troveremo elencati diversi parametri grafici, inclusi alcuni che tratteremo a breve, che di base riportano la dicitura By Layer. Ciò significa che tali parametri o proprietà sono assegnati non al singolo oggetto ma al layer e caratterizzano dunque tutti gli oggetti appartenenti a quel layer. In ogni momento, però, è possibile aprire il menu a tendina di ciascuna voce, ad esempio colore, e sceglierne uno differente. D'ora in poi, l'oggetto selezionato verrà sempre mostrato con questo nuovo colore specificatamente assegnato ad esso, anche nel caso in cui il colore del layer dovesse cambiare. Questa priorità delle proprietà del singolo oggetto su quelle del layer la ritroveremo in tutti i parametri grafici che andremo a trattare, ma sarà anche sempre possibile ripristinare la condizione iniziale dell'oggetto selezionandolo e impostando la voce By Layer dal menu a tendina. Ispezioniamo di nuovo il pannello dei layer e assegniamo uno spessore di linea differente tramite la voce Print Width. A prima vista nulla sarà cambiato nella tavola, ma attivando la modalità Print Preview potremo ben osservare come gli elementi appartenenti al layer selezionato vengano ora mostrati con linee più spesse. Il parametro Spessore viene applicato sia ai tracciati 2D che ai bordi dei modelli 3D. Nella vista Render le linee di spigolo e vertici in quanto elementi geometrici astratti non sono però visibili e perciò le modifiche appena applicate rimarranno invisibili nell'immagine renderizzata. L'ultimo parametro che presenteremo è il Line Type, ovvero il tipo di linea. Anch'esso può essere applicato sia dal pannello dei livelli che localmente come proprietà del singolo oggetto, ma diversamente dagli altri influencerà soltanto la rappresentazione dei tracciati 2D, non essendo un parametro di modellazione, ma un parametro grafico espressamente concepito per la presentazione a stampa. Possiamo ad esempio modificare il parametro Line Type del layer di alcuni elementi di annotazione. Osserveremo immediatamente come l'aspetto di tali elementi risulterà modificato. Questo è dovuto al fatto che la modalità Print Preview è stata precedentemente attivata. Disattivandola, le modifiche verranno temporaneamente rese non visibili. Quindi, nel caso il Line Type non risulti visibile, si può procedere a verificare nello stato effettivo attivando l'opzione Print Preview. Qual è la discriminante che più frequentemente può alterare l'aspetto dei Line Type? La risposta è la scala di rappresentazione. Lo stile di linea è sostanzialmente un pattern che alterna tratti e spaziature. Le caratteristiche di tali pattern sono descritti mediante lunghezze in millimetri o pollici editabili nel menu Line Type del pannello Drafting. Ad esempio, una linea tratteggiata codificata da un pattern di 5 mm con 5 mm determinerà una linea tratteggiata in cui tratti di 5 mm sono alternati da spaziature di 5 mm. Le misure di default sono quindi molto piccole e una volta applicate senza ulteriori controlli agli elementi di un tipico disegno architettonico, generalmente lunghi anche diversi metri e per giunta spesso fortemente scalati, possono alla fine risultare invisibili. In questi casi, infatti, ingrandendo il disegno, è possibile osservare come il pattern di tipo venga sempre applicato, ma risulti semplicemente troppo piccolo per essere stampato nitidamente o rimanere ben visibile oltre una certa distanza di osservazione dell'elaborato di stampa. Per rimediare a questo inconveniente, è possibile intervenire direttamente sulla scala del singolo tipo di linea. Inserendo un moltiplicatore di 10, ad esempio, moltiplicheremo per 10 la definizione del pattern, che risulterà così di 50 mm con 50 mm, divenendo ben visibile anche alla scala di stampa da noi utilizzata. Quest'opzione però, seppur disponibile, richiede una gestione attenta del file di lavoro. Per questo motivo risulta più semplice applicare la trasformazione di default avvalendoci dell'opzione Print Preview. L'opzione Print Preview calcola automaticamente il giusto fattore di scala da applicare ai diversi stili di linea prescelti, suggerendo le misure in millimetri da attribuire ai vari stili per una corretta stampa delle tavole grafiche. Questa opzione però è solo un'anteprima e potrà essere effettivamente applicata nella stampa finale solo previa impostazione del menu di stampa. All'interno del menu di stampa potremo quindi attivare l'opzione Match Pattern Definition per applicare la corretta scala ai diversi tipi di linea prima di stampare o salvare il nostro elaborato grafico. Ora disponiamo di tutti gli elementi essenziali per gestire la stampa grafica dei nostri disegni e modelli.